sei pronto? ci siamo! dorato! doppio! doppio! marchi non devi credere! allora lui vuole il leoncino! lui vuole il leoncino! ok alto! anche lui non è retap! marco hai trovato tutti i personaggi non è retap! benissimo! benissimo! che bello! vediamo! ora c'ho l'ansia! attenzione! il panico! aiuto! l'ultimo! eccoci! chi è? verina! verina! vabbè dai! tu sei un'ida lover! quindi penso fino a proprio a contare a tu sia abbastanza contento no? vabbè andiamo! doppio! no povera scienzia! 5 stelle! oddio! oddio! l'ho chiamato! è qui! è lei! tanto sappiamo già che è lei! quindi l'ultima multi puoi farla nel banner delle armi! per del permanente invece che qua! devi selezionare un'arma poi! oh! discord! discord! ah! abbiamo trovato la discord! mi sento male! oh ciao! grazie per il fallo su tiktok! albi! grazie! grazie! grazie raga! grazie albi! che bella che è anche lei! sono bene tutti! vabbè io sono contenta sempre ragazzi oggi! sono contenta tutti! questa ti piace Betty? sì! oh! per fare la multi si va a 70! vabbè in 10 ti esce il 5 stelle! però ti auguro che in questa! dai! 5 stelle nella multi prima! visto che non c'è un soft! dai! esci ora! yes! oddio! oddio! allora! allora! è lui o non è lui? allora! intanto il 5 stelle è uscito! quindi possiamo dare sì! perché non siamo arrivati a pitti! ma il 5 stelle è uscito! quindi la scommessa ha vinto il 6 a prescindere! chi è? betta chi è? è lui o non è lui? ma non so! non so niente di questo! è lui o non è lui! betta! è lui! betta dice lui! vai! vai marco! vado! betta vede adesso! guarda! dice ma chi cazzo è? di chi stiamo portando? ma dov'è? 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 non so perché sono qui! oh! oh! è lui! non è lui! no! è l'altro lui! è il lui sbagliato! vabbè ma questo è quello bello! scusate! un applauso anche al primo leoncino del canale! il leone! molto bello Salvo! molto molto bello! questi primi giorni di gameplay mi sono piaciuti tantissimo! mi sto divertendo un bot! quindi tanta roba! 5 stelle mutiamo per 10 minuti claudia! let's go! vai! vai così! oddio ginger realizza il mio sogno! porca puttina! si! 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 mi ha visto il mio sogno! numero uno! numero uno! ferma molte 5 stelle! mutiamo claudia per 10 minuti! lo faccio io! ragazzi il giorno più bello della mia vita! sospendi! oh! perfetto! bene! vai! tiriamola fuori! verina! o comunque chiunque penso ci vada bene uguale! si! però una bella spadina! potrebbe essere un personaggino però vabbè! dai! dai! c'è l'arma e c'è il 5 stelle però eh! sì sì infatti! muti delle armi! muti fortunata! c'è il 5 stelle! che è? se è verina ragazzi vola tutto! no! oh! però bella! la volevo eh! la volevi! bella! no bella! odestamente ragazzi io ma non mi sembra che si perda mai! sono tutti bellissimi questi! ok andiamo a 30! oddio! siiii! raga! timing gate a tutti i basso! ah in ulti! no! la prima singola! doppia! 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 prima singola! pt21! ed eccolo qua! il signorino! vai ginger! prendiamoci il nostro gattino! bambino gattino! un secondo leoncino qui! eccolo! comunque si! doppia scelta di leoncini! incredibile! si! facciamo anche quello là! però amo! senza i suoi problemi avremmo! non avremmo! è il destino! no! non è garantito! no! oddio! oddio! però secondo me Anchor davvero! se Anchor mutiamo Claudia per 10 minuti! dai! bello questo gioco! che bello questo gioco! divertente! si può fare più spesso! si può fare più spesso! lo metterai in lista effettivamente! tra divertimenti! Anchor! guarda eh! no! 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 l'unico! l'unico già presente! maledetto! e vabbè! se ma domenica e pula su Wootering! lei! è vero! è vero! però! non è vero! 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 oddio! 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 ma è quello del selettore! è certo! è quello del selettore! non lo fa il culo ma riesco! che bello! che bello! che bello! non è vero! non è vero! vai! prossimo! ultimo! qui c'è il 5 stelle! per forza! quindi abbiamo detto Junk Sin! perché purtroppo Anchor non ti può uscire e gli altri non ti interessano almeno! ok! non può uscire! no! allora non gli può uscire! il doppio! oh! no! il doppio! lascia! ma basta! no! hai detto che ti cai! guarda tu te la tieni anche! no! comunque il doppio di là! non qua! dai! il doppio troviamolo nel banner evento! quant'è il massimo di chain? eh! sei! come su Genshin! identico! bravo! ok! non è ancora! oh! oh! che cura Livio! mamma mia! va bene Gigi! 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 buona! buona! bella! altra! quindi! oh! molti al 5 stelle Livio! non sei emozionato? eh sì! se mi esce lui sì! se non è lui! se non è lui! abbiamo una preferenza tra Anchor! non gioco più! no! come non gioco più! no! non funziona! non funziona! funziona! vabbè! 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 buona buon gioco! tira! 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 allora! se non arriva lui va bene che calciano! ok! se non arriva! ok! ci siamo! incredibile! se sì! mutiamo Federica! ma... qui! eccolo! perfetto! mutiamo Federica dai! mutiamo Federica! oh! ancora! ehi! Gigi! comunque è uscito a metà pity! anzi molto prima! è uscito a 42! buono! buono! che bello! bellissimo! bellissimo! bellissimo sì! sono le altre! l'altro! poi pian piano! sì esatto! e Anchor riesce di là! la seleziona di là! e lei fa scendere di là! Verina secondo me la usa di più! ha anche Calzaro! quindi Verina sta bene anche con lui! quindi meglio Verina! siamo d'accordo! e di là puoi segnare la Anchor! sì è carina! faremo che per quando entra il prossimo che è Arce nel caso Davide ci raggiunge se ci vuole dare una mano! oh! 5 stelle! fingiamoci sorpresi come se non sapessimo che è quella scriptata! Calzaro! dai! vai! il calzolaio! il calzolaio! un bello questo scudo! quello lo vuoi te Fede nelle tue di pool! sì! però non c'è nessuno a parte lei che tira i puni! ma mica la cinquantesima mi esce! è proprio la cinquantesima! e chi è? dai che è lui! no! l'ignano! ma l'hai fatta tu la companion? sua? l'hai provata? ma quanto è carino il gameplay! mi piace da morire! ti giuro! bellissimo! beh sono contenta che ti sia più che ti piaccia comunque! anche io giuro fino a prova contraria apprezzavo un sacco! un saluto a cinzia! adesso però basta lasciacelo spazio agli altri! e qua anche al 5 stelle gentilmente! vediamo che cosa ci aspetta! la cinzia fa schifino! no allora qui c'è chi dice che non fa così schifo! staremo a vedere! oddio! 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 aiuto! amore mio vieni a casa dai! speriamo dai! dai che sia lui! amore ti puoi! dai! sì! eccolo! pt13 14 evviva! stiamo parlando! sta splash art è una roba allucinante! necessitando carte collezionabili di butery waves per avere quella carta qui con me! ti immagini la figure! eh io sto aspettando! bello! bello! bellissimo! dopo aver trovato nella prima multi nel banner questo la imited 5 stelle! e anche nell'altro banner dei personaggi! cioè quello l'altro è permanente! ecco la cinzia Davide! lei è cinzia! lei è cinzia! è quella iniziale dall'inizio della storia! esatto! lei è una di quelle che ti danno inizio storia! esatto! era la mia preferita! calzaro! dov'è? calcare! calcare! il brano iniziale scompare! quando scompare! penso quando si pulla tutto! o quando si trova il 5 stelle! quando trovate il 5 stelle raga! ok! verina! vabbè! è buona! vabbè! dai arcia questa è buona! buona buona! buona buona! ciao! ok! andiamo! dai 5 stelle! sìiii! lo la tuorce! però vogliamo Michael! ok! inizio multi! doppio 5 stelle? doppio, doppio, doppio! doppio! Che bello che c'ha quel coso lì a fianco Sì, amo lui, ed è quattro stelle A questo punto mortefi perché è quello che ti manca Sì, allo Ma che cazzo Stefano! Così? Stefano! Io arci No, Stefano, no! No! Stefano! No, Stefano! Befi dove? Io non ci credo Che culo di merda Ma che cazzo? Sì, sì, potete dirlo Potete dirlo Prenderla, la prendo La mia Cult of the Lamb Girl Era la run perfetta Fare Berina, Calcro Ed Anchor Lo sai, è quella che vorrei io Quindi ti invidio Ti invidio Spero di riuscirci Ma non credo No, lei è troppo carina È una bambina che non mi cringia Ti giuro, è l'unica bambina che non mi cringia Troppo carina Il team delle armi non si può fare Oh, sì! Meno male, si risparmia! Oddio, sono contentissima Dai, allora, Calzaro, Priority Buono Buono, dai Personaggio nuovo, dai Perfetto Dai Dai, o Calzaro Se no abbiamo anche altre alternative Però Chiamiamo Calzaro di base Ok E' la tua seconda La tua seconda Opzione Va bene, va bene Sono molto molto felice Tanto poi comunque c'è il ticket Quindi in un modo o nell'altro Quell'uomo oggi a casa torna Quindi Pazzurda È il momento Bellissimo Bellissimo Ah, sono contenta Christian Che ti sta piacendo Se vuoi entrare nel Discord Appunto Scamativo Discord Abbiamo tutte le sezioni Eccolo Con questa splash art E questa animazione pazzesca In cui puoi fare domande Puoi appunto giocare con gli altri Perfetto Giangshin Giangshin Vieni a noi O calcaro O calcaro Dai Abbiamo Due quinti di possibilità Ok Un'arma buona Ora poi non le so le statistiche Ancora quale arma è percentuale Di attacco Altre HP Non le conosco ancora Quindi Non le so per usare L'attacco percentuale dovrebbe essere Ci siamo Ci siamo Dai Dai No Il leoncino Io lo sapevo A tutti quelli che non volevo L'ho trovata Ma succede anche a me E sono come te Nel senso Mi piace il gameplay Però No scusami Si va Si va Ho perso anche Oh Va bene Che culo Va bene Va bene Ok 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 Alla grande Almeno il pincio L'ho completo Perché io già mi sono fatto il team Ah No avevo dubbi No avevamo dubbi Non avevamo dubbi Ragazzi Ma Yilin Gioca troppo Bella Così domani c'è due Ed eccolo Ed eccola qua Perfetto Bellissima Bello che fa tipo Tai Chi con il piede Mentre fa La figura Bella 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 Stelle vedremo via via Ma te Michael Jackson Sì o Michael Jackson No No Michael Jackson No Oddio Federica Sei la solita scessa Mamma mia Mamma mia Il leoncino A PT2 No per favore Ah bella A PT2 La scessa suprema La solita Grazie Betta Grazie Betta Che comunque Stai per andare al lavoro Ma stai in chat Per offendere Guarda Ha trovato anche la sua preferita Federica Il calcaro E lui sicuramente Doveva arrivare Un marito c'è Sì Vabbè L'altro Vediamo Stai lanciando Francia la pensa Come me Ha scritto Ora vediamo se qualcun altro Ha la sua Opinione Bellissimo Cosa Aiutaci Forza Forza Intanto c'è Che non si sa mai Che questo gioco Visto c'è pieno di bug Che lo script vada via Non si sa mai Perfetto Vediamo Uh i quasi I quattro stelle Sì I paraginocchi Vediamo Anche qui Un po' Suiuto gli occhi Perché tanto parlano Esatto Vero Anche qui parlano Quindi Eccoci Dai Dai A meno Dal ticket Ti prendi l'altra Che volevi Quindi Buono E qui c'è il ticket E Ok E qui c'è la signorina Ma che cosa uscirà mai Non lo so Secondo me È Shelling Young Io Sto metto Shelling Young Anch'io Cazzo Abbiamo sbagliato Davide È Jiang Sheen Eh invece Abbiamo sbagliato Non me l'aspettavo Mi cazzo Io vorrei Che devo pagare Il demito Della mia commessa Bella Let's go Tan 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 È la prima multi Che faccio in questo gioco Con le mie mani La prima multi Che faccio in questo gioco Con le mie cazzo di mani Io vi giuro Vabbè Giuso Facciamo che Qualsiasi cosa è Mi vuoi bene Lo stesso Comunque Mortefi Tra l'altro Che è nel banner Di là Facciamo che Mi vuoi bene Lo stesso Poi arriverò nel mio banner E mi uscirà la quinta Oh Eccola qua Metà pt Eh Non te l'ho preso Però te l'ho presa A pt 5 Va bene Uguale Va bene Va bene A pt 5 Vero Dimmi tu Intanto ti faccio questa Che è l'ultima Di queste che abbiamo qua Magari esce qui Sì Prima del pt Prima del Nella prima singola Nella prima singola Sì Eccola qua Bellissima Che fatti pt 5 Bellissima Let's go 5 stelle Dai Anchor Verina Calzaro Anchor Verina Calzaro Sono tre personaggi Dai 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 La scinzia Sempre presente La scinzia Onnipresente Una pistola A 4 stelle Niente male E ci siamo Anchor siiii è ancora bene in a calza siiii la priorità la priorità suprema benissimo pt30 aiuto aiuto ok 21 22 23 24 via via 25 26 dai sì 26 26 con 50 e 50 adesso la bimba di mini che torna a casa la piccola verina è carina la mia figlioletta verde bellissima sa fra poco e nel frattempo dai dai panico paura ci dobbiamo credere gg gg visto che non puliamo nel banner dove it up gigissimo ci siamo nel momento questa è colpa del tuo amore per mini questo la sua bambina torna a casa eccola la piccoletta che arriva troppo carina bellissima molto bene franceschino sì una multi prima dai francia abbiamo risparmiato una multi abbiamo risparmiato una multi siamo a pt 40 abbiamo risparmiato una multi top 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 allora vogliamo ordine verina anchor kung fu panda dai ma perché cazzo kung fu panda non usiamo le cose di cialice dai vediamo vediamo verina anchor junk shin poi junk shin si chiama dai su 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 lascia uno della signorina lascia uno e il 5 stelle eh kung fu panda kung fu panda kung fu panda così ti puoi prendere le altre due bene perché così le altre ne metti una del t le hai tutte e tre france così questo deve essere l'account di hammer che io la conosco a lei lei invece è la collezionata francesco ma è talmente facile ma è talmente facile france non devi aspettare per sostituire baisi con verina perché appunto ce l'hai già non devi aspettare nient'altro ma 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 porca miseria ma allora ma ma io non ne posso più una persecuzione quest'uomo una persecuzione però c'è anche verina nella multi ti prendo la sua piccola anchor e così la sua famiglia è al completo pieno zeppo moglie e due figli hai trovato tu oggi hai la moglie e hai anche le due figlie hai avuto tutto grazie anche io france ti voglio bene dai eh verina anchor calzaro verina anchor oh finalmente un po' di colore un po' di gioia un po' di estetica anche oh bene ora torniamo concentrati calzaro verina anchor ci siamo qualunque pull di personaggi nuovi seconda multi ots oddio siiii vedi 15 lui proprio lui pollo gli hai presi entrambi hai entrambi questi signori hai preso entrambi i signori validi andiamo per favore divinità della puro games ci inizia ci scassassi la cosa non la volevamo la cassiera no però magari vuol dire ci porta bene il 5 stelle butta bene il 5 stelle perché ha buttato male il 4 dai dai ancora siiii ancora prendiamo la signorina ci siamo maoi ti amo ragazzi lo scuro maoi si conferma anche negli account di chi ancora non avevo mai bullato ed eccoci qua matti con la sua verina e la sua anchor nel suo account le sue bambine speciali tutte e due oggi per poter giocare o verina dai 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 cazzo ma me la sentivo torna a ум da hammer ciao vanni eccola qua bellissima pazzeschissima fattaci fu a calzaro non l'ha chiesto nessuno come prioritario tranne tipo pollo dai dai forza vediamo magari anche un quattro stelle personaggio insieme faccio per dire ma che cazzo stai dicendo un'altra cinza ci siamo è il momento il banner del calzaro quindi arriverà presto ma nel frattempo prendiamo la bambina verde anche claudia con questa bella bambina torna a casa la sua bambina verde che alice non voleva che riderei lei ha trovato il leoncino che alice voleva e invece alice ha trovato verina che claudia voleva incredibile incredibile come l'universo si sia controbilanciato perfetto verina ok vediamo se il destino ci assiste qua raggio dorato grazie ok perché non si sa mai si sa mai perfetto vediamo ma un doppio quattro stelle cioè l'isolazione di smaug yes ecco qua dove era lo scuro ecco qua dove era lo scuro eccolo qua volevo gliel'ho chiesto apposta ragazzi gliel'ho chiesto apposta perché io sapevo che usciva quello che lui voleva 40 io ti giuro io ti giuro alberto ti giuro ti giuro alberto ti giuro ti giuro se se è lui sei proprio un cesto se non è lui gg perché tanto te volevi prendere yilin vediamo 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 questo era 31 32 33 apiti 33 Gesù è proprio Gesù in tutto e per tutto alberto alberto io ti giuro che dicevo boh ma perché me la riscatta non me la riscatta o lui stigate oh eccolo io ero lì allora allora che funziona perfetto io ero lì io ero lì